ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale wrestling continuiamo con persona 5 strikers bene nell'episodio precedente siamo appena giunti in una prigione quella del laboratorio che sta nell'isola di okinawa quindi io direi di incominciare subito senza perdere tempo in chiacchiere inutili e vedere che cosa succede in questa nuovissima puntata di persona 5 strikers buona visione eccoci esploriamo subito questa prigione e vediamo cosa ci propinano adesso oh oh vai così bella musichetta misteriosa ma già non si sembra funzionante ciao ciao ma io è Sentite che musichetta ragazzi, fenomenale Credo di aver capito quale fosse l'oggetto che loro è E il risveglio del cuore Registrazione per uno, dai A meno che lei non senti qualcosa con questa Laboratrice Sto sentendo qualcosa vicino Ehi, perché deve essere così scuro Eccola Ci hai fatto preoccupare, sono contento che tu sia bene, non scappare più in quel modo Scusate Scusate Hai detto che hai sentito una voce, no? Hai capito di chi è ancora? Non, si è riuscita dopo aver arrivato qui Non abbiamo mai sentito qualcosa di tipo Quindi, solo la Sofie potrebbe ascoltarla? Era molto strano La voce sembra parella con la mia E' chiamata il nome Detto io Potremmo il proprietario della voce mi conosce Come è questo, Sofie? L'unica memoria che ricordo prima di incontrare Joker E' la diretta per diventare la compagnia dell'umanità Ho passato così vicino con voi E ho imparato molte cose Ma ancora non so niente di me Quando ho sentito la voce Pensavo che avevo trovato la mia chance di imparare a me Scusate di ti preoccupare Tranquilla, non ci pensare Possiamo scoprirlo insieme, Sofie Sei Sofie e nessun altro Possiamo scoprirlo insieme Grazie, Joker Ho sentito che possiamo sapere più di te qui Cosa ti dice questo? Ho pensato un po' di tempo Cosa stai pensando Cosa stai Emma Sofie Sto cercando di una certa connessione Abbiamo trovato a Sofie in un giallo, certo? Emma è stata linkata a quella giallo E Sofie è un AI come Emma Non c'è una forma che queste sono tutte coincidenti Che gatto, ragazzi Che gatto, ragazzi Io sono con te Aspettato Per Sofie E' vero? Eh sì Grazie Vabbè, abbiamo due missioni Uno, prendiamo tutti i desideri locali Per che non si parla di uscire E due Ficuriamo chi stia stessa chiedendo a Sofie Facciamo entrambe le cose Pensiamo prima alla voce Pensiamo prima ai desideri Facciamo entrambe le cose Sì, buona idea Non ho obiettivi È solo naturale per noi assistere sia il pubblico e i nostri amici Allora Phantom Thieves E vai E vai Quindi Vediamo un po' chi si è valesa Vabbè Erbudino nero Un po' Un po' Un po' Ok, ora Siamo davvero Un po' Un po' Un po' Questo è grosso Hold on, è over? E' vero? Allora Siamo mantenendo il pace, non? Sì Si Parece che siamo sicuri per ora Oh, è qua, qua Bene Vediamo in cosa ti trasformi Ah, ok Quello che ho fatto prima Che dire Che super potenzia Ok Eccolo sepevo io La tua abilità di scasso non è abbastanza alta No Tragede Senti che musica che abbiamo ragazzi Scassinatore E vai così E mo si Tiè bello Chris Chris Redfield Beh Chris è decisamente più potente Bene Dai io di Chris No io non sto bene da qua Oh Sto andando giusto Sì Guardiamo un po' che cose Gli devo fare del male a questo Frey Ma perché ci aveva dei pensieri La coppiamo Bene Bene Anche quest'altro Budino è morto Ah Cosa è questo? Qui pensavo che avrebbero avuto una combina Buona roba ragazzi Ehm Quindi questo è un labo di ricercizzi Per Comunicare? Ehm inoltre la facciglia progettava un ambiente di esperimentazione umana di esperimentazione umana? questo significa che il monarco di questo posto ha usato la facciglia reale in stessa modo che una f***a modo di vedere! tantissimi contenuti! cosa pensi che c'è dentro? sembra di essere abbastanza personizzati oh bene, vediamo un po' in cosa si trasforma questo abominevole uomo ah, rimane così fantastico chi è? ma qui, a qui ok 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 ecco Non lo vediamo! Focchi! Che è quello? Oh sì, una città! Wowo! Scorre! Ora proviamo ancora! Non lo vediamo! Oh! 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 Chi è? Aragabbati! No! Ho sbagliato! Eh! È sempre lui! Oh! 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 è il mastermind dietro questo caso? potremmo finalmente arrivare a presto con l'altro? dobbiamo trovare i desideri prima, inoltre e anche trovare quella voce per Sophie mettiamoci ehi, il checkpoint ah, ogni tanto, il laboratorio nord è stato registrato il checkpoint dovrei scrivere qualcosa se già ho il comportamento di Clint è diventato per lei c'è qualcosa di male? ummm potremmo il migliore è che abbiamo tutti i nostri forti e i nostri forti una scuola? una scuola? cosa dovremmo fare? sì questa scuola è la nostra ok, lasciami ah, la c'è stava pure buon lavoro a tutti ok, non c'è tempo per uscire ci c'è un caccio di caccia, dovremmo aprirlo? assolutamente si e che lo lascia qua resiste psico... 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 si, vabbè ma posso vedere niente, tutto buio e tempestoso oh, cosa è questo? hmmm un altro registrante che rende la terza ascoltiamo c'è una possibilità che queste cose potrebbero avere cluei sui desideri dell'Islander o anche quella voce che Sophi ha ascoltato sì, dovremmo ascoltarla cosa? non è吗 questo non è buono è povello nessuno di un scuola, o ha? nel ritorno ci riascano a pensare non solo i locali ma anche i miei ma anche così è questo che sono le monti Non è un'ultimo. Si ha risposto di svilogare che mi in un altro piacciglio. Un'ultimo. Non lo so, non è vero che il risposto di quello. Cosa un'alba che si tratta con le occhiali. Ma non lo so, non lo so. Ma non riesce a prendere questo, perché ho voluto il mio? Il mio voglio è ma mio. Non lo so, non lo so. Oh, no, se stia davvero Si, non era proprio in mente Si parla di parlare su il sogno che si tratta Ma cosa stia facendo? Si trobiamo solo se stiamo E ancora si sentiamo Mi sento ancora la voce Mi ha conosciuto? Hey, non ne pensi a di non pensare Si è proprio, sai Il nostro espertente non pensare ha abbastanza buona Sì, ascolti al... Ehi, fermi! Mi ricordo cosa succede con la directora dopo la ultima ricordazione. Non credo di qualcosa di buono. Si sembrava come se fosse per il cuore. Quindi, da Alice all the way here to the director? Tutti stavano solo utilizzati per qualcosa? Se il perpetrator è ancora qui, dobbiamo stoppare. Sì, spero che questo posto abbia alcune risposte. Ehi! Questa è gigantesca, ragazzi. Ah! E' molto minaccioso. Faccio vedere chi sei. Oddio, Santosh! Buongiorno! Buongiorno! Sì! Dai, che te sbrago! Oh, il tempo è questo! Sì! 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 Buongiorno! Sì! 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 Cheillah accounts sono? A presto! Lesso! Questo non è più lungo che ci è! Cursa non funziona! Ma non ritirà. Lo ne fai sospito! E c'è la truppa! È il tipo di lavoro. Questa pensi d'oggio, Joker! È il tuo gioco per te! È il tuo gioco? c'è l'entra la fa questo è meglio di tutti è un fenomeno sei in grande sei Yosuke la quarta registrazione questo è il mio ultimo record ho fatto una cosa così una cosa terribile il sistema di planetaristico non è nulla come ti ha detto e non è stato fatto per salvare la humanità sembra molto peggiori che prima ha fatto controllare tutti anche i monarchi la humanità niente più che i slaviti questo era il consiglio di questo progetto anche il mio proprio desiderio sarà sbagliato in ogni momento ma per quanto riguarda ancora posso mettere un fin a questo me stesso bene registrazione 4 interessante il nastro sembra finire qui controlla anche i monarchi non so cosa che questo direttore si stava a parlare ma sicuramente ha perduto il suo soldato dopo l'inizio ho cercato di considerare cosa ha significato di mettere un end a questo eccola Sofia ha notato qualcosa cosa è Sofie posso sentire questa voce ancora per vero? andiamo insieme non ho dubbio che questo è la stessa voce è venuto da quella direzione ok in quella direzione andiamo ok c'è anche un nuovo salvataggio laboratorio sud è stato registrato come checkpoint no then io devo scrivere qualcosa bene è una shadow meglio essere attenzionati è un attacco di bled è un attacco di bled andiamo a prendere questo velo non l'è un attacco di bled tiè te li sbrago tutti tiè ma che bava fa un attacco qualcuno sembra felice non è un attacco non è un attacco dovremmo dovremmo applicare il stesso esforo nella prossima battaglia pensi che possiamo ambasciare da qui questo deve essere utile come uscire questi gli li non non escapi la leggo pernese è davvero efficace sui soldi dei rai guardatevi sono fuori di stima ora è tempo per prendere tutte le tappi fuori fuori questo è quello e quello? questo era un'epoca ora spero che il prossimo è proprio così facile posso vedere Cuidate, questo è pericoloso. È questo, certo? Ti prendi il gioco in gioco? Non problemi. Si, sembra che gli enemy si panica. Molto bene, finiriamo questo velocemente. C'è ancora molti enemy. Non ci sono anche! Un'altra parte, riusciti! È ora! Vai, prendiamoci questo! Oh, buono Joker! Hai scelto il gioco! E' per questo che sei la leader. Cata BOOM! Morto! Oh! Oh! Spragadillo! Focus! Oh! Nice one! Keep it up! What do you think? Pull it off? It's over! Strike! Finally! We let up! Let's finish him off! Huh? Do-do-do... It's not even break a sweat! We're gonna keep up the pace, shall we? Shadow located. I'll reveal your true facts! Yeah! We're taking them by surprise! Right! Let's clear the pace! Huh? For real? Wow! Hmph! Not much of a challenge, were they? Ready for an ass-kicking? Don't lower your card! This is your chance! It's showtime! Got it! Haha! Ah! It was over before it started! I should've taken a nap! Vabbè! L'ammazza comunque! Vabbè! L'ammazza comunque! Zuu? Woah! Looking cool, Joker! Eh lo so! Ah, è tutto quello che hai fatto? Oh, stai scoperto ora! Sto sicura che possiamo riuscire! E' finito! Signor Kirk, concentra il tuo attaccio all'interno! Non c'è più di più! Un po' di più! Qui vedono qui? A scappare da me? Ah ok, forse è qui! Eccolo! Ehm, sembra che stiamo prendendo questo elevatore, se stiamo andando più. Ma che sia scoperto. Apparentemente è solo per il personale. Lascia a me! Solo un po' di secondi, e io ci ringrazio tutti! Grazie, Oracle! Io mi proteggerò, non importa cosa! Ecco, io mi sono preso pure... Mi sono pure spiegata da Super! Eccolo! Eccolo, che stai scoperto! Eccolo! Eccolo facile! Eccolo facile! Eccolo, dovrei prendere le noti! Eccolo, dovrei prendere le noti! Non ho provato! A me è scoperto! Eccolo, ma chiusura non sembra, non funziona per me! Eccolo! Metti due virilità! Metti due virilità! Metti due virilità! Vai Cal circulazione aiutò! Molto il trio di foglia! No, non sono anche Lynch cellulazione o lo害! Volevo a vendire. 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 Cosa? Cosa? Il sogno è già lì? Semo la chiamata? Sofìa, ho aspettato per te. Cosa è venuto? Chi sei? Sono la cattolista per il sogno dell'amore. Sono la cattolista dell'amore. Questo sembra proprio come Sofìa. Cosa sta succedendo qui? Questo cattolista che ci troviamo, voglio sapere perché tu è venuto qui. Un cattolista cattolista? Quindi, la direccia? Ecco. Questo cattolista ha perduto il monarco. Questo racconta la scuola aperta e tutto il altro bambino. Quindi non parlavi con me perché mi riconosce? Cosa è la sua direccia? Io... ...magazzo per essere una successione per l'amore. Una successione per l'amore? Cosa attrezzi? Cosa pari metri in tua AI diri una cosa pari metri? Cosa? Pari metri? Cosa è la sua overall cattolista? Cosa? È... Ah, simpatica. No, no, non è vero. Non dire così. Che stronzate. No, no, non dire così. Si l'ho sentito qui mentre tu andavi e poi e poi e poi e poi. Non c'è la vera di dire quella di la Sophi. Suryaicimi? Voi dimenticare, e la palla di larga, palla di giudici, palla di giudici, non poter vedere la faccia. Ei, ei... Huh. Si lei mi ha dato la spese disembodica, ma cosa? Skole? Huh. Si è scolgata, no? Si è scolgata. Si hai tutto quello che da 5 stanza? Siamo amici di Sofie, e sappiamo che è fantastico, è davvero incredibile, un milione volte più migliore che tu! Quindi scusci il f***o, idiota! Vai, scuola, i bambini di bambini dovrebbero essere più classiare da questo. No, questa volta! Un pezzi di pezzi di pezzi?! Non mi riusci a provocire queste prezziplice. Oh, sì? Prendi qui e ti mostrerò qualcosa che non puoi provocire! Oh, eccolo! Questo è un guardiano! Vai! Non ti preoccupare, giù ben su me! Oh, eccolo! Non avrete paura! Stiamo a fare il cosiddetto! Dai, je! E faccio pure la super! C'è il nostro leader! C'è il nostro leader! C'è il nostro leader! Arahabaki! Qui! C'è il nostro leader! C'è il nostro leader! C'è il nostro leader! C'è il nostro leader! Tiè, mamma che t'ho fatto! Volevi rompere scato la Sofia! Così ti impari! Well done! Oddio! Attiva Tarugash all'inizio della battaglia! Ok, marufa, bala, qua! Oh, fantastico! Tanno sacro medio e un'ampia area! Vai così! Troppo easy! Eccolo! Gabbia della disolazione è condannata! C'è questo? C'è il loro età? C'è il sogno? Si, ti sento con l'interno. C'è il per un per il loro... Non preoccuparti, sono stati sforzi vani, è stata una delusione, sì, no, non preoccuparti. C'è un'esforza dentro di me, ho amici, ho saputo che non sono solo, grazie, Joker, grazie, Skull, Mona. Sì? Hai scoperto ora? Cioè, questa cosa mi ha scoperto. Sì, e io ho cercato a scoprire in Skull, quindi... Oh, cosa è questo? Due in vera, phantom thieves? Anche i tuoi maschi sono rosso. Ma, non è strano, è impossibile! Come è la mia masca che deve cambiare la colore? Mona's black mask rende difficile da dire. Ma, non sto dicendo nulla. Percepisco un forte legame con i miei amici. Bene, che maledato aumenta i danni degli attacchi speciali. Dai, eh, eh, eh. Mi preoccupa Zinkishi, mi preoccupano gli isolani, sono davvero esausto. Ma sì, Zinkishi. Oh, man, è finalmente mi ha scoperto. Oh, hang on. È già la mattina? Oh, no wonder che mi sento così beata. Beh, guarda chi lo ha scoperto. Ehi, guarda chi lo ha scoperto. Quindi, come si è andato? Chi era il monarco? Si era un locale? Si trovavano qualcosa sulle di Medis? Zin... Zinkishi... Eh, 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 next time. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Oh, eh. Eh, sembra che voi avete un tempo reale in là. Guardate qui. Sì, sicuro di voler andare da solo? Posso guardarti le spalle. Ah, voi avete già preso il tuo peso. E poi alcuni. Almeno mi lascia aiutare ora. Ah. Oh. Eh. No wonder even I'm bushed. At least the first half was a lot of fun. Not only that, we learned quite a bit from the jail. That voice, though, who do you think that was? All I know is there a real asshole copying Sophia's voice and everything. Eh. Oh, Senkichi è chiamato Daie E fu così che tornarono e ci fu un'altra ambush Siamo tornati al camper per vederci un meritato riposo Daie Daie Pare che è tutto a posto, insomma Non era necessario perché qualcuno l'ha minacciato E' stata inviata in realtà E da chi? Qualcuno l'ha minacciato? E' questo Oh Sì, prendi un po' di resta? Come si comportano i locali? Non preoccupi, sembrava che tutti arrivano a loro sensazioni. Non è nulla ma buoni tempi qui qui. Allora, tutti sembrava che hanno un po' abbastanza buona memoria riguarda i ultimi mesi. Quindi, se non troviamo un monarco qui, perché i locali trattano il labo? Perché si attaccavano? L'experimenti del labo potrebbe avere qualcosa con questo. Oh sì, parlando del monarco, Un corpo ha surfaciato, ad esempio la sua descrizione. Ho scoperto da me stesso, sotto alla base di un clifo, vicino al labo. Si è auto-occupato. Niente, Shuzo Ubukata, un tipo di ricercizionario di AI, e direttore del labo. Ovviamente un'autopsia sarà fatto, ma, basato su quello che hai riportato, probabilmente sarà un suicidio. Non può essere. Un'altra vita ruota da chi ha mastermindato questo tutto. Prendendo un dive per evitare l'experimentazione di giro? C'è il più senso per me. C'è alcune volte dopo la sua morte, ma ancora ha avuto alcuni effetti personali sui. E' sicuro che si vanno con lui quando il coroner... Dio... Uh... Hm? ... 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 E' abbastanza migliore anche. Cosa direi? Ti senti che sei un fan oficino ora? Perché voglio andare da sicurezza pubblica all'interno nazionale? In ogni modo, sono tornato a HQ. Cosa ti fanno fare? Non c'è nulla cosa che possiamo fare, fino a che Zenkichi identifica il maestro. Ehm, dovremmo tornare con lui a Kyoto per ora? Non dovremmo fare? L'acqua mi ha fatto davvero male l'ultima volta. Ehm, quindi non dovremmo andare a Kyushu? Il nostro avanti non sarà molto lungo se facciamo così. Possiamo anche scattare l'area per i giocatori. Un'ottima idea. Un'ottima idea. Di tutto. Potremmo potremmo fare la tour di Phantom Thieves di l'islanda. A Kyushu, eh? Sii che bene. Io seguo con chi è a questa città. Quando vedo, lo vedo. Ho consultato il tempo di ferie di partita. Siamo potremmo tornare immediatamente, se si trattiamo. Ok. E quindi ce li mettiamo in marcia, ragazzi. Bene. Okinawa è già finita. Così, ehm, dobbiamo già dire addio a questo splendido posto. Sicuro di non avere qualcos'altro da fare. Una volta salpata la nave, non si torna più indietro. Assicurati di aver fatto tutto. Appena sei pronto, partiamo e portiamo il camper al porto. Chi è? Scusate se ti tiro in ballo. L'argomento proprio quando siamo per andare. C'è qualcosa che vorrei chiederti prima di partire. Hai un po' di tempo per parlare? Fammi sapere, per favore. E dove ti trovo, coso? Ah, ok, è lì. Un po' di tempo. Eh, sì. Cieli azzurri, acque cristallini, la dolce bellezza che ci accarezza il viso. È sufficiente stare fermi in questo punto per essere travolti da un flusso incessante di ispirazione artistica. Eh, vero, bello. Tuttavia, per quanto io consenta alla mia passione di guidarmi la mano, sento come se ai miei schizzi mancasse qualcosa. Desidero fare un ultimo tentativo, ma vorrei chiedere un tuo contributo. Tra tutte le forme di bellezza su quest'isola, vi ho un qualche soggetto che meriti di essere immortalato per poter essere contemplato in futuro. Che ne dici di un Shisha? Che ne dici del Rafute? Che ne dici dell'Utaki? Yes. Già, l'area della spiaggia è oggetto di tanta venerazione, tuttavia mi rincresce a cedere a quel luogo senza il benestare degli abitanti. Ci sarà mai una bellezza capace di saziare la mia ardente passione? Yes. Ecco, lo Shisha è un elemento fondamentale di Okinawa. Forse dovrei eseguire qualche schizzo delle statue che abbiamo visto al porto, no? Non sarà sufficiente. Vorrei immortalarne uno che sia fuori dall'ordinario, una perfetta sintesi tra un indomita furia e un luciferino sollazzato. Ora che ci penso, vi erano degli Shisha nella prigione di questo posto. Non posso attendere oltre, dobbiamo regarci immediatamente alla prigione Akira. Incrociando nuovamente le lame con quell'ombra sono certo che la verità si svelerà ai miei occhi. Ti invierò la mia richiesta via smartphone. Dunque ti prego, non induggiamo oltre e partiamo. Vorrei completare lo schizzo delle Shisha prima che la mia passione si extingua. Mi vuole chiedere il tuo aiuto ma fallo almeno in nome dell'arte. Questa è quello che ho trovato. Ok, queste stanno dentro alla prigione quindi non c'è bisogno di farle e... Facciamo il legame. Questo è buono, 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 sì. Bene, è stato un piacere. Bene ragazzi, anche questa puntata di Persona 5 Strikers è conclusa. Beh, che dire, è stata la più veloce in assoluto. Abbiamo fatto una prigione in, boh, mezz'ora. Cioè, non so cosa sia successo. E ora abbiamo deciso di lasciare nuovamente Okinawa per la volta di un'altra città che non ricordo. Per poi andare nuovamente a Kyoto. Quindi faremo questa tappa intermedia dove sicuramente ci sarà un'altra prigione. E poi a Kyoto sarà un'altra ancora, sicuramente. Quindi questa è stata veloce, facile e intensa ma veloce. E niente, finita... E appunto sono rimasto un po' stupito quindi direi di, insomma, salutarci. Ci vediamo nella prossima puntata di Persona 5 Strikers. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Wrestling. Ciao e alla prossima.